Una docente ci scrive per quanto riguarda le utilizzazioni 2019-2020 per chiederci se, essendo titolare in una provincia X, per esempio Milano, può fare la domanda di utilizzazione per la provincia Y, per esempio Reggio Calabria, nel caso in cui possiede titolo di specializzazione sul sostegno, chiede appunto se può fare la utilizzazione interprovinciale sul sostegno verso Reggio Calabria. La risposta sta nell'articolo 2,5 del CCNI, nell'ipotesi del contratto integrativo sull'utilizzazione 2019-2022, che dice che la domanda di utilizzazione interprovinciale può essere fatta esclusivamente se la docente si trovasse nella provincia di titolarità in esubero provinciale, cioè la classe di concorso della docente fosse in esubero provinciale. non significa che la docente deve trovarsi in esubero provinciale o in sovrannumero nella scuola, ma basta che la classe di concorso di titolarità sia una classe di concorso in esubero. Allora in tal caso può fare domanda di utilizzazione in altra provincia sulla classe di concorso di titolarità o in subordine anche sul sostegno, per cui la risposta è in questi termini.